Nel frastono di luci, voci, schiamazzi e di una moltitudine di persone ho perso il contatto di te e la tua mano. Il tempo di voltarmi intorno nel cercarti e non vedendoti sentire i palpiti del cuore aumentare il ritmo. In predo lo sconforto ho iniziato a muovermi senza una meta alla ricerca di te, quasi frangolassi nel buio, senza alcun risultato, con il cuore gonfio di un malore strano, come se qualcosa di meno ci fosse più. Mi sono fermato e ne riprendermi. Sono salito in alto sui gradini di un portone per cercare tra le mille chiome addeggianti la tua, per me, unica. ed intentano a seguire la marea umana alla ricerca disperata di te, sentire la tua voce come per incanto e perché fossi certo della tua presenza, prendere le mie mani e portarle sul tuo viso. Con la nebbia negli occhi, per le lacrime di gioia ed una felicità indescrivibile, e rivederti accanto a me, stringerti in un abbraccio tenero, dolce, lungo, mentre il profumo intenso di una caramella avvolgeva i nostri corpi. Una caramella, testa e voce di Mauro Mazze. Grazie. 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 Grazie.